Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, quella di mattino 6, come ogni mattina vi sfoglieremo, sfoglieremo insieme nei quotidiani della nostra regione e non solo, per vedere quali sono le principali notizie che interessano l'Italia e per l'appunto l'Abruzzo. Nella prima parte ovviamente spazio alle prime pagine, poi nella seconda entreremo all'interno dei quotidiani della nostra regione che trovate già in edicola. Iniziamo dalle prime pagine, la vedete alle mie spalle, la prima pagina del centro edizione di Pescara che ovviamente apre con... Tornando sul delitto di Montesilvano, con un virgolettato il delitto di mio figlio a un mandante. Parla la madre del 21enne ucciso a Montesilvano, Antonio bevi l'acqua. Droga e debiti, dice la madre del ragazzo, proprio non c'entrano nulla. Nella fotonotizia invece si va su questioni di carattere più prettamente nazionale, sulle questioni Auditel, gli scontri televisivi tra Gianni e Fabio, Gianni Morandi e Fabio Fazio e guerra di ascolti. Per la politica internazionale si è votato per il Bundestag in Germania e allora il cancelliere Angela Merkel prova l'alleanza con i verdi e i liberali. ZDU che ha vinto, ma insomma è un po' in arretramento, sconfitta per i social democratici. Ma andiamo nelle questioni che riguardano più da vicino, Casa Nostra e allora nelle cronache a Pescara, ricorso contro il comune, antenne, ora i giudici danno ragione alle radio. E poi avrete sicuramente sentito dei concorsi truccati nell'ambito universitario, sette professori arrestati, 22 sospensioni, come me leggete, due casi in Abruzzo. Sempre all'interno delle cronache, sempre a Pescara, settimana corta al liceo classico, il Tar dice di sì. A Villa Fiorita, sette profughi a Cepagatti e sale la protesta. Sempre in Abruzzo, leggiamo, enti locali partecipate, corsa contro il tempo, Lanciano, i sindaci ad Alfonso chiedono più risorse per la prevenzione, vaccino anti-influenzale. L'obiettivo è quello di raggiungere il 75% delle persone vaccinate. Andiamo adesso sull'edizione di Teramo, sempre del centro. Anche qui l'apertura è dedicata alla cronaca. Barista si schianta e muore a 26 anni. Morrodoro con l'auto contro un tir, il giovane era un dirigente sportivo del Castelnuovo. All'interno delle cronache, anche qui leggiamo da vicino, a Teramo, maggioranza fragile, vendita della farmacia. Brucchi evita la caduta. Andiamo in Val Vibrata, Tortoreto, inflitta, misura cautelare ad un carabiniere. E poi l'avvertenza, parliamo di questioni sindacali, all'Atria, ora è sciopero ad oltranza. Cambiamo edizione anche in questo caso. Andiamo su quella di Chieti Lanciano Vasto. Ancora cronaca, ma si parla di un caso di un po' di tempo fa, omicidio 30 anni a Cipressi. Uccise con un coccio di vetro, lo ricorderete qualche tempo fa, il musicista Di Marco, la difesa, è pronta all'appello. Ovviamente ricordete questo episodio sgradevole, incredibile, di cronaca che è successo proprio a Chieti. Nelle cronache, controlli a raffica, San Salvo, false residenze, stangata per 41 furbetti. Nel Frentano, classi pollaio, ora il problema sono i docenti. A D'Ortona, al Bernabeo, aperta una clinica dermatologica. Chiudiamo le quattro edizioni con quella dell'Aquila a Vezzano Sulmona. In questo caso apertura dedicata a Colle Maggio che riapre a dicembre. Corsa contro il tempo all'Aquila per restituire la basilica ai fedeli. All'interno ci sarà anche la descrizione dei restauri che sono stati effettuati. proprio alla basilica di Colle Maggio. A Sulmona, aumentano i poveri alla mensa della Caritas. Scendiamo a Canistro, dissequestrata all'acqua Santa Croce. Ad Avezzano, consorzio di bonifica, ipotesi. Commissario, abbiamo terminato le quattro edizioni del centro. Allora vediamo la prima pagina, dunque, cambiando quotidiano del messaggero Abruzzo. che apre sempre con l'omicidio Bevilacqua. Fantauzzi, indagato, anche l'amico si legge. Pescara, per il secondo uomo del delitto Bevilacqua, scatta l'accusa di concorso in omicidio. La resa del killer dopo otto giorni. Sono a casa mia, venite a prendermi. Oggi l'interrogatorio. In alto, leggiamo, per la sanità, Pescara Chieti è il giorno decisivo per il derby del super ospedale. E poi genitori battuti, promossa al TAR la settimana corta al liceo classico di Pescara. L'Aquila rinasce, invece, il cantiere dei sottoservizi nel cuore del centro storico. Scendiamo a centro pagina. La cupola dei prof nell'inchiesta. Pure due pescaresi, lo abbiamo visto anche sul centro. Corruzione ai tributaristi Basilavecchia e Del Federico. Sono stati sospesi dall'insegnamento. E poi, altro caso di cronaca, che viene richiamato nella fotonotizia per Cipressi, condanna a 30 anni. Rito abbreviato, ha riconosciuto le aggravanti da Ergastro all'uomo accusato dell'uccisione del musicista Chietino, avvenuta la notte del 9 ottobre 2016, quindi praticamente quasi un anno fa, nei pressi di un circolo privato allo Scalo. L'imputato non era in aula al momento della lettura della sentenza. Il processo, la popolare Bari e parte civile contro la ex Tercas. E a Castelnuovo, altro fatto di cronaca, barman morto nello schianto a soli 26 anni, Christopher Micolucci. Chiudiamo le prime pagine locali, andando proprio in provincia di Teramo. Lo facciamo con il quotidiano La Città, barista ucciso da un colpo di sonno. Oggi a Castelnuovo, i funerali di Christopher Micolucci, il 26enne titolare del Mykonos, è finito contro un tier. In alto, concorsi universitari truccati, interdetto anche un professore dell'Università di Teramo. Sette arresti e 59 indagati per le cattedre di diritto tributario, che evidentemente facevano particolarmente gola. Iniziato il processo per truffa sulle azioni Tercas, ex dirigenza della banca che è finita. Ovviamente sotto, accusa in basso, saltata la vendita delle partecipate. A Teramo la maggioranza del sindaco va di nuovo sotto. In spalla, morte cerebrale, l'imprenditore Giuliesi è caduto dal balcone, ha donato gli organi. A Roseto, in municipio, più internet e meno burocrazia. In basso, per lo sport, ovviamente si parla di Teramo a Pordenone. Teramo da encefalogramma piatto, quello più o meno che i tifosi, ai loro, hanno imparato a conoscere la scorsa stagione. Adesso andiamo sulle questioni più prettamente nazionali, partendo, come vedete, dalla prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui l'apertura è dedicata ai concorsi truccati. Così, anzi, truccavano i concorsi. Proprio si entra nello specifico. Arrestati sette professori, 22 interdetti in tutto il paese. I dialoghi non serve essere bravo ed evidentemente il trucco del concorso serviva proprio a questo, a premiare chi probabilmente non meritava. L'inchiesta sull'università, il giudice patto fra tributaristi, indagato anche l'ex ministro Augusto Fantozzi. In alto Merkel in Germania, pronta a cambiare ma decido io, governo difficile, è già lite nell'estrema destra, nell'AFD, partito che ha avuto un grande successo in questa tornata elettorale. In Corea del Nord, Pyongyang, Trump ci ha dichiarato guerra, la minaccia di Kim, abbatteremo i jet degli Stati Uniti. Cambiamo giornale, andiamo sulla Repubblica che invece apre proprio con le questioni tedesche. Merkel a rischio la leadership dell'Unione Europea con le ombre nere sulla Germania. Il giorno dopo il voto è già scissione fra gli ultranazionalisti, Frauke Petri lascia il partito. E poi a centropagina, Università, la cupola dei professori, cattedre pilotate, arrestati sette docenti, altri 22 sospesi. Indagato anche l'ex ministro Fantozzi. In basso per lo sport, ma che poi con lo sport c'entra relativamente, Agnelli paga il patto tra la Juve e gli Ultra e subisce un anno di inibizione. Il messaggero, edizione nazionale, concorsi truccati, retata di docenti, sette professori di diritto tributario agli arresti domiciliari. Per corruzione pilotavano nomine tra i 59 indagati, c'è anche l'ex ministro Fantozzi. Intercettati gli accordi, il merito non conta. E poi la fotonotizia, Aftar a Roma, incontri segreti su migranti e sicurezza all'Eni. Il generale libico vedrà Minniti, il ministro Minniti, il ministro Pinotti, egli 007. Angela Merkel ci riprova, no socialista, nell'ultra destra è già scissione. La cancelliera, governo, prima di Natale, AFD, lo strappo di Petri. E poi vedete anche la crisi in Nord Corea, con le parole di Kim Jong-un, che dice Abbatteremo i caccia americani. Libero. Solo professori o anche ladri? È la domanda che si pone nel quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Arrestati sette cattedratici accusati di grattare e 59 inquisiti. Sgominata l'università, alcuni docenti di diritto tributario truccavano i concorsi pubblici. In cambio di favori, l'inchiesta è scattata dalla denuncia di un ricercatore. Adesso tremano tutti i baroni, indagato l'ex ministro Fantozzi, che dal commissario all'Italia incassò anche 6 milioni. Evidentemente non gli bastavano. Le elezioni in Germania, tracollo di Schulz in Germania, se lo conosci lo eviti. Pallone sgonfiato lo definisce il quotidiano. E poi in basso, lui vuole i profughi, i fedeli no. Don Prodi lascia la parrocchia, il nipote dell'ex premier. Si mette nei guai. E poi una notizia che peraltro ieri abbiamo anche trattato, che riguardava la questione in chiave più prettamente aquilana. Restituite i soldi degli sms per i terremotati. Zero fondi ad Amatrice, ma finanziata una scuola fuori dalla zona rossa. Tutto partito dalle parole, dalle dichiarazioni del sindaco di Amatrice, Pirozzi, che poi ha fatto scattare anche un'inchiesta della procura di Rieti. Il mattino il sistema dei concorsi pilotati. Arrestati sette professori universitari, due napoletani. Indagato. L'ex ministro Fantozzi l'accusa, pressioni su un ricercatore con più titoli, a ritirare la candidatura con la promessa di assumerlo in futuro. Evidentemente questo ricercatore che aveva più titoli rischiava di far saltare il banco proprio con i suoi titoli, evidentemente. Di spalla per lo sport, stasera torna la Champions League e il Napoli affronta il Feyenoord. Sarri in Coppa ha vietato sbagliare e Milik, Arcadiusz Milik, cinque mesi di stop per l'ennesimo infortunio dell'attaccante polacco. A centro pagina, Trenitalia, inchiesta piena di errori nelle motivazioni della soluzione dure critiche ai PM Woodcock e Curcio. In basso, politica, due questioni di politica internazionale. In Germania, l'estrema destra ai falchi, dopo il boom delle urne, via la leader moderata di AfD, Merkel, ce la faremo. La Nord Corea, invece, abbatteremo i getto USA, il ministro degli esteri alzaitoni, da Trump all'ONU. Una vera e propria dichiarazione di guerra. La stampa quotidiano di Torino, a Berlino, eletti xenofobi e negazionisti, idee e profili dei deputati dell'estrema destra che sono entrati in Parlamento, che entrano nel Bundestag. Merkel e Draghi rassicurano l'Unione Europea, la cancelliera. Faremo un governo che duri quattro anni. Il presidente della Banca Centrale Europea, che dice, la ripresa sta accelerando. E poi, Kim Jong-un, ovviamente, questioni della Corea del Nord, diktat agli atleti, non parlate. La Nord Corea, abbatteremo i getto USA e il Pentagono, abbiamo un arsenale immenso. Nella fotonotizia vedete non il diretto protagonista del diktat, ma uno che evidentemente dovrebbe subirlo, ovvero il 19enne nordcoreano Kwang Song-an, che gioca nel Perugia. Peraltro è andato in gol anche contro il Pescara qualche settimana fa, evidentemente a lui è stato proibito di parlare. E poi, i concorsi con il trucco, in manette sette professori, l'accusa, si spartivano le cattedre a Firenze Blitz contro i docenti di diritto tributario. Il tempo. Si parla qui proprio del sindaco di Amatrice, Pirozzi, che scende in campo sulle macerie della destra. Il sindaco di Amatrice vuole le primarie, decide il popolo, partiti al vivio per le regionali, va secondato o contrastato? La fotonotizia. Nostro cronista si finge closciare in Vaticano, notte tranquilla ma all'alba ce lo sgombero, io barbone a San Pietro. Di spalla, dateci battisti, il Brasile pensa all'estradizione, l'assassino terrorista vive a Rio de Janeiro. E poi sulla questione concorsi truccati all'università c'è anche una storia tra le pieghe delle varie che ci sono, abbastanza inquietante, sesso ed è diventata prof. Davvero non c'è mai limite al peggio. Il manifesto Angela e Demoni è la fotonotizia che richiama le elezioni in Germania. Merkel in cerca della coalizione possibile contro l'onda xenofoba dell'AfD. Terza forza politica, l'SPD promette di alzare la bandiera dell'opposizione. Metà degli elettori persi da Schulz a Verdi e Linke, la sinistra tedesca, due milioni di voti in più, cambiano gli equilibri della Germania, ma non solo. E poi in basso le reazioni, il voto tedesco gela Bruxelles, l'asse Berlino-Parigi adesso scricchiola. Migranti sottotiro, fallimento dell'Unione Europea sui ricollocamenti, anche la riforma di Dublino adesso sembra a rischio. Il secolo XIX, Merkel prova a scacciare le paure, il governo durerà quattro anni. In campo anche Macron, Draghi, che dice la ripresa è ok. Ok, e poi inchiesta a Firenze, sospesi 22 prof universitari, PM, concorsi truccati, arrestati 7 docenti. Il sole 24 ore, che analizza in chiave monetaria il voto tedesco, più che voto lo definisce il quotidiano uno shock tedesco, cade l'euro, rebus coalizioni per Angela Merkel, tempi lunghi per il nuovo governo, e tempi lunghi, come di consueto, non favoriscono il buon andamento dei mercati. E infatti, leggiamo, rischio instabilità in Germania e Unione Europea, dopo il successo dell'estrema destra, il calo di CDU ed SPD, tensioni sui mercati. E come vedete, anche alcuni che rimuovono, dopo ovviamente la campagna elettorale, i manifesti di Angela Merkel, viene definita la cancelliera indebolita, anzi qualcuno l'ha anche scarabocchiato il manifesto. Il fatto quotidiano, così ho incastrato la mafia dei baroni e dei concorsi universitari truccati. Blitz a Firenze, input di un abbonato al fatto. E poi, nel riquadro, Agnelli, squalifica di un anno per ultra biglietti e malavita. Il pubblico ministero, troppo poco, dice, la sentenza è troppo leggera, e allora farà appello. Politica internazionale, la Merkel ricatta gli alleati e l'ultra destra già si spacca. Poi per la politica italiana, l'applausometro grillino, di Battista e Raggi Su, tutti gli altri giù, le pagelle di Italia a 5 stelle, che potete trovare evidentemente all'interno del fatto quotidiano. L'avvenire, l'unità e la ricetta per costruire il futuro. Bassetti, adesso nuove leggi su famiglia e immigrati. In consiglio permanente cei, profonda adesione al cammino di Francesco, mai dividersi in cattolici della morale e del sociale. E poi le notizie in alto, 5 stelle, noi antipopulisti, Di Maio studia da futuro premier, operazione della guardia di finanza sui concorsi pilotati, la guerra di parole, Pyongyang insiste, un diritto a battere i caccia americani. E poi, praticamente 20 anni fa, c'era il terremoto in Umbria. Il ricordo del terremoto nel 1997, la ricostruzione di popolo nell'Umbria, ferita, 20 anni fa, che colpì duramente anche la basilica di San Francesco. Il secolo d'Italia, con le parole di, evidentemente, Toti, Destre Unite, andrebbero al 45%. Altre notizie, Battisti, noi ti aspettiamo, potrà essere stradato? Punto di domanda. Catalani no al referendum? E contrario, il 60%, manette pure all'università, indagati oltre 57 professori. Chiudiamo con la verità e poi vedremo i quotidiani sportivi. Più soldi ai galeotti, meno ai malati. L'Italia alla rovescia. Aumento dell'83% ai detenuti che lavorano in carcere guadagneranno 1000 euro, quasi come gli agenti e più dei precari. Nella manovra si scoprono altri tagli alla sanità. I contributi calano al 6,3% del PIL sotto la soglia critica, secondo l'OMS. E poi, nella fotonotizia, chi è Alice Weidel, la passionaria che ha fatto nera la Merkel, una della punta di diamante dell'AfD, che è stato il terzo partito nelle elezioni tedesche. E poi, in basso, la Fedeli spende 50 milioni per gli immigrati, corsi riservati agli stranieri. Il ministro usa i fondi in arrivo dall'Unione Europea per imporre l'integrazione nelle scuole. E poi, altre due notizie, paladina delle adozioni gay, schiaffa alla famiglia la faziosa conferenza della Boldrini. E poi il mercato delle cattedre, arrestati sette docenti, indagato l'ex ministro Augusto Fantozzi. Andiamo adesso sulle pagine di Sport, partendo dalla Gazzetta dello Sport. Alta tensione Milan, leggiamo. Ombre lunghe su Montella, questo è il titolo. Il tecnico è sotto esame, futuro Conte o Ancelotti. Ieri vertice a Milanello, dopo la sconfitta con la Sampdoria. L'allenatore ha la fiducia della società, ma le sfide contro Roma e Inter potrebbero anche essere decisive. E ovviamente sono stati strigliati per la prestazione non perfetta anche i giocatori di spalla. La sentenza, biglietti oltre, Agnelli inibito per un anno, resta presidente ma niente spogliatoi. E lui dice nessun legame con la Ndrangheta. Champions al San Paolo c'è il Feyenoord. Sarri deve vincere, il Napoli rovinato dalle nazionali. Il tecnico attacca, liste UEFA inutile, allarme tifosi olandesi, tre arresti. E nell'analisi firmata da Arrigo Sacchi c'è scritto dell'ora del riscatto. E sarebbe veramente ora che le italiane riscattassero un inizio di Champions davvero da dimenticare. In basso, Inter, buone notizie, si apre il Cancelo. Candreva trasloca l'esterno portoghese. Dovrebbe essere disponibile per il derby. Spalletti vede l'azzurro trequartista. Vandanara presenta il libro sul marito Icardi. Il Corriere dello Sport. Giustizia a metà. Agnelli inibito per un anno. La UEFA ricorso, accolte in parte le nostre ragioni, in appello anche la procura FIGICI. In alto, carica Napoli. Sarri, saremo aggressivi in Europa per rimanerci Champions. Gli azzurri contro il Feyenoord alle 20.45. Missione vincere. Milik operato e torna purtroppo a febbraio. In basso, a tutta Wanda, Icardi Inter per sempre e col triplete. In Serie B, vittoria del Palermo in rimonta sulla Provercelli, grazie alla doppietta di Ilia Nestorowski. E poi la festa, una casa per tutti, con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inaugurato il centro di preparazione paralimpica. Chiudiamo con Tutto Sport. Bolla di sapone, la definisce, Juve multata, Agnelli inibito per un anno, clamorosamente smontata la tesi del procuratore federale Pecoraro, che aveva chiesto 30 mesi in alto. Tutti con Niang, il Toro ha bisogno di un attacco, che l'attaccante superi il momento difficile. Da Belotti agli Aic, la carica dei compagni, dopo la figuraccia, viene finita così, nel derby. Milan-Montella, rapporto, due partite per salvarsi. Sampdoria, l'Europa non è un miraggio, e il top player Giampaolo. Campaolo, estero, la nostalgia di Conte, primo o poi tornerò in Italia. Basket, sabato il via, caccia a Milano, Torino pensa in grande, e per la Formula 1, operazione rimonta, Vettel-Tigre del Malesia. Con questa prima pagina, chiudiamo la prima parte anche di mattino 6, adesso le previsioni del meteo, la pubblicità, poi rientriamo, entreremo all'interno dei quotidiani di casa nostra tra poco. Seconda parte di mattino 6, siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani, ripartendo di fatto con il centro, con la pagina dedicata alla Regione Abruzzo, che andiamo a vedere, che parla di campagna vaccinale, e il cui obiettivo, evidentemente, è il 75% della popolazione. Nel 2016, la copertura è stata solo del 48, l'ASL di Pescara studia di abbinare l'anti-pneumococo. Questo è l'obiettivo. Oggi a Campotosto, un tetto alla Casa di Comunità, la cerimonia con Mazzocca. E poi all'Aquila, aiuti di Stato, prima giornata di formazione a Palazzo Silone. Ma andiamo subito al delitto di Montesilvano, perché sono parole importanti, quelle della mamma di Antonio Bevilacqua, che dice, mio figlio non spacciava. E so che c'è un mandante. Niente droga o debiti, ha dato dell'infame a chi ha poi armato l'assassino. La mamma di Antonio Bevilacqua, è certa che ci sia qualcuno dietro Fantauzzi. La donna difende l'onore del suo ragazzo e accusa, sono stati in tre e tutti e tre devono pagare. Quindi, insomma, parole differenti rispetto a quella che è stata la prima ricostruzione. Il testimone che dice, Massimo era arrabbiato, il racconto dell'uomo che ha accompagnato a casa Fantauzzi dopo la lite. Non ho visto subito il fucile del killer, non ho capito niente, dopo lo sparo sono fuggito. Vediamo anche la versione di questo super testimone. Quei due stavano litigando, così ho preso di peso il mio amico, l'ho fatto salire in macchina per evitare che finisse a botte. Poi l'ho accompagnato a casa. Quando sono andato via da casa sua, si era tranquillizzato, gli ho detto, ora vatti a dormire, ci vediamo domani. Evidentemente parole che non sono state prese in considerazione. All'altra parte, l'ordine di arresto. Vattene infame le parole che hanno condannato Antonio. La ricostruzione del giudice per le indagini preliminari sui fatti accaduti la notte del 16 settembre all'interno del Ristopab e il fucile recuperato ad Ortona dei Marsi. L'arma nascosta in un terreno. E allora, prima di vedere come tratta l'argomento del messaggero, noi ci andiamo a vedere il servizio curato per noi da Alfredo Primante che fa il riassunto anche sulla conferenza stampa dei Carabinieri di ieri. Vediamo. Sono io, sono qui. Queste sono state le prime parole di Massimo Fantauzzi dette agli uomini della pattuglia dei Carabinieri nell'atto di consegnarsi sabato mattina stremato da otto giorni di fuga nelle campagne, non molto lontano dalla sua abitazione di frazione con l'evento alta, a Montesilvano Colle. A raccontarlo sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara che in conferenza stampa oggi hanno anche mostrato l'arma del delitto, un fucile da caccia a canne mozze con matricola a brasa che lo stesso Fantauzzi ha fatto rinvenire agli investigatori indicando dove lo aveva gettato, cioè nelle campagne di Ortona dei Marsi. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma dopo l'omicidio di Antonio Bevilacqua la notte tra il 15 e il 16 settembre, Fantauzzi ha lasciato il pub Birrami di Via Verrotti a Montesilvano saltando in sella la sua moto una Honda CBR 600 e fuggendo verso la Marsica. Qui ha abbandonato l'arma del delitto in una zona poco abitata e abitualmente frequentata da motociclisti per poi tornare indietro verso Pescara. Dopo essere uscito dall'autostrada ha abbandonato la moto gettandola nel fiume Pescara sotto il ponte delle fascine a Cepagatti, lì dove è stata ritrovata sabato pomeriggio facendo perdere così definitivamente ogni traccia di sé. Se la dinamica della fuga è abbastanza chiara il movente di un omicidio così efferato non lo è affatto. Dato acquisito è il litigio fra Fantauzzi e Bevilacqua avvenuto un'ora prima del delitto sempre davanti al pub Birrami. Litigio confermato dalle immagini di sorveglianza e dalle testimonianze degli avventori del bar. I due, dicono i carabinieri, si conoscevano questo e certo ma non ci sono riscontri sul vero motivo alla base del diverbio. Un giro di droga? Un debito di gioco? Il movente resta un mistero che potrebbe però essere svelato nel corso dell'interrogatorio di garanzia di Massimo Fantauzzi che non è stato ancora però fissato. Che cosa abbia causato questo diverbio? In questo momento è allo studio e all'esame ancora di chi sta indagando. per cui insomma anche e soprattutto alla luce dell'arresto del Fantauzzi plausibilmente renderà delle dichiarazioni se le ritiene opportuno altrimenti si avverrà della facoltà di non rispondere ma comunque noi dobbiamo attendere anche su questo aspetto le eventuali dichiarazioni del Fantauzzi. Il 46enne pizzaiolo che ora si trova in carcere in isolamento anche per evitare ritorsione da parte dei detenuti legati alla comunità Rom come è accaduto alla sorella nel carcere di Chieti ha già confessato il delitto. I carabinieri hanno confermato che nelle perquisizioni nella sua abitazione hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana e una pistola e hanno anche detto che allo stato attuale non ci sono altri indagati per l'omicidio del 21enne Rom e oltre non risultano persone che abbiano appoggiato la fuga di Fantauzzi. Continuiamo ancora a parlare del delitto di Montesilvano ma cambiando giornale e andando sul quotidiano il messaggero la resa di Fantauzzi leggiamo venite a prendermi sono qui a casa mia le ultime ore di latitanza del killer di Antonio Bevilacqua il secondo uomo finisce indagato per concorso in omicidio e leggiamo anche il retroscena un debito ha scatenato la lite sfociata in tragedia dopo gli insulti e questa la pista seguita dagli investigatori resta da stabilire se è questione di gioco o di droga e poi di notte le indagini anche la fuga di Fantauzzi è su strade secondarie il tentativo di fuga il piano fallito all'altezza di Cocullo dove il fucile è stato smontato lo avete visto nelle immagini è sotterrato e poi alcune parole mi ha trattato male questo lo sfracchio sotto accusa anche NM il pregiudicato pescarese che ascoltò le parole dell'assassino insomma ancora una vicenda dai contorni abbastanza ancora da chiarire restiamo a Pescara perché a Pescara resta al classico la settimana corta il TAR ha respinto il ricorso del comitato dei genitori contrari che non mollano vedremo se rivolgerci al Consiglio di Stato la preside d'amico spero che gli alunni ritrovino serenità rivoluzione degli orari comincerà dal prossimo 2 di ottobre in basso a centropagia ha rateizzato il pagamento del debito la paranza salva la concessione sospensiva al TAR e poi papa patrono dell'esercito tanti no dopo Valentinetti in basso piano sociale frenata in Consiglio salta l'accordo su famiglie e asili altre seduta a fiume Forza Italia accusa Sinistra Italiana di aver fatto azzerare l'intesa raggiunta domenica e poi rimanendo a Pescara e poi torneremo sul quotidiano il centro due prof pescaresi indagati a Firenze per i concorsi truccati Lorenzo del Federico ordinario alla D'Annunzio e il collega dell'Università di Teramo Massimo Basilavecchia sono stati sospesi dall'insegnamento l'avventura automobilisti intrappolati in aeroporto un solo varco aperto e attese bibliche appena 50 minuti per arrivare da Milano e altri 40 per lasciare il parcheggio in basso tumori quella cura figlia delle stelle la lezione di Eugenio Coccia al Rotary e poi cent'anni di veleni un docufilm su Bussi torniamo adesso sul centro vediamo che c'è la questione relativa alle antenne di San Silvestro un sindaco non può diffidare i gestori che superano i limiti il consiglio di stato accoglie il ricorso di RDS e altre due radio la materia è di competenza della regione e del Ministero e la legge gli impianti non a norma vanno spostati ed è il 2005 il decreto legislativo che riordina la materia relativa alle emissioni di campi elettromagnetici e a Pescaracolli ovviamente riparte il rinasce il comitato riparte dopo tre anni la mobilitazione per dire no a un impianto alto 21 metri a Pescara il Tar conferma la settimana corta respinta alla richiesta di sospensiva avanzata dalle famiglie degli studenti ora si attende la decisione nel merito ovviamente parliamo del liceo classico d'annunzio e poi sempre per la scuola accogliere per unire e la festa delle lingue al mantone mille studenti alla giornata europea del sapere raccolta fondi per le scuole terremotate in basso solidarietà e pasticceria al chocolate day del De Cecco sempre a Pescara per la politica salta l'accordo sul piano sociale l'opposizione blocca il consiglio sconfessata da una parte della maggioranza l'intesa raggiunta domenica tra il PD e il centrodestra bocciate le richieste per le famiglie sposate per i bandimbini pescaresi che si iscrivono agli asili nido casciano MDP la stazione di Porta Nuova dice va rivitalizzata centropagina avviati i lavori in piazza grue il vice sindaco Blasioli in corso l'intervento nell'ex circoscrizione occupata dal liceo Da Vinci in basso le ultime analisi sul litorale il mare di nuovo pulito anche a via Valilla e poi la struttura di via del concilio in biblioteca bagni sporchi e sedie rotte gli studenti denunciano il degrado dell'annunzio orari di apertura sempre più ridotti e manca anche la connessione wifi vedete alcune foto che sono insomma abbastanza esplicative a via Prati invece lavori finiti dopo dieci anni finalmente riqualificata una delle principali strade di ingresso alla città a Montesilvano il sindaco Maragno dichiara guerra allo sfruttamento sessuale il comune dice sì al progetto Asimmetrie 2 della Caritas e dell'associazione On The Road e il sindaco rivela in sei mesi 24.500 euro di sanzioni alle lucciole e ai relativi clienti Aspoltore verde acque limpide nel mondo dei bambini ecco i vincitori del premio di Girolamo il concorso di disegno per le scuole con 378 opere andiamo a Cepagatti sono sette richiedenti asilo ospitati a Villa Fiorita i profughi vengono accolti nel centro gestito da una cooperativa altri in arrivo nonostante la difida del sindaco da parte del padrone la difida al sindaco da parte del padrone della struttura a Francavilla da Palazzo Sirena alla Filanda abbattimenti perché a San Giovanni Tiatino FB Servizi il tribunale dice sì al concordato critiche dell'opposizione al sindaco ci ha negato l'accesso a qualsiasi informazione sulla società sempre a Francavilla a Porticciolo turistico servono altri fondi il sindaco Luciani convoca un incontro per fare il punto sui lavori sono necessarie nuove risorse a Popoli va la croce rossa la merce sequestrata al venditore abusivo capi di abbigliamento dominati dal comune ai volontari sono stati acquisiti dall'attività di indagine della finanza di spalla a penne e penne che ricorda i fratelli Silvio e Bertrando spaventa centropagina Pianella Cartiera senso unico alternato riapre la strada provinciale 20 chiusa per la frana dal 17 gennaio e pronti 83 mila euro per altri ulteriori lavori in basso a Bateggio gemellaggio tra Bateggio e La Pera di Marco Vetrina per le nostre eccellenze ad Alanno il baratto amministrativo nel piano sociale andiamo a Chieti Cipressi condanna a 30 anni uccise con un coccio di vetro il musicista di Filippone la difesa pronta all'appello si parla ovviamente dell'omicidio di Marco e poi sono dei casa Monica e ve la farò pagare evaso Aquilano arrestato dai carabinieri in basso un posto all'università per 30 mila euro notizia assunzioni fantasma in Ateneo parlano i padri truffati hanno sborsato soldi per far lavorare i figli all'Aquila la basilica simbolo con le maggio pronta entro fine anno vittorini della soprintendenza rassicura sui tempi i tesori svelati e vedete anche torrione facciata pavimento altare insomma c'è un'analisi molto dettagliata dei lavori che sono stati effettuati all'interno della basilica di Colle Maggio in basso Santa Croce dissequestrata l'acqua l'ha acquistata a Colella e la Norda tratta con i proprietari per costruire il nuovo stabilimento a Teramo schianto contro un tir muore a 26 anni la vittima gestiva un noto bar a Castelnuovo umano ed era un dirigente sportivo l'incidente è avvenuto a pagliare di Morrodoro vedete anche le foto e questa è la vittima Cristopher Micolucci via il processo per truffa ex tercas la pubblica accusa cita in aula Sora e Pilla la Banca Popolare di Bari ha confermato la costituzione di parte civile contro Di Matteo prima di andare allo sport torniamo al messaggero che abbiamo lasciato prima ma che riprendiamo con l'Aquila sotto servizi nel cuore del centro due mesi di fuoco obiettivo natale al via i lavori del tunnel intelligente nella zona nevralgica ovviamente siamo all'Aquila della città vecchia dai quattro cantoni lo scavo proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele fino in piazza le parole di Antonio Tramontano la successiva area interessata sarà quella di via forte braccio per la sanità prorogati 40 contratti di precari Pietrucci ringrazia il DG della ASL Tordera in basso rompe il vetro di un'automobile ruba la borsa preso e arrestato il blitz che ha portato in ha portato a fermare un colombiano appalto della questura assoluzione in appello confermata la sentenza di primo grado nell'operazione non ci furono irregolarità sempre all'Aquila nasce il polo museale dell'università con oltre 600 reperti presentata l'iniziativa per valorizzare il prezioso patrimonio i tesori saranno esposti nelle varie sedi anche il Munda collaborerà il cambio del comandante il generale Fabrizio Toscano ha ceduto l'incarico al generale di divisione Gianluigi Miglioli presso la scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza ha coppito per il lavoro dopo Intex ora scatta l'allarme per la Tales leggiamo altre notizie i nodi della ricostruzione palazzo a via Scarfoglio il cemento è ok Abruzzo Engineering Febbo Conti in Rosso e consulenze record cambiamo pagina e andiamo nella Marsica ad Avezzano giustizia e sanità rischio chiusura al tribunale i giudici andati via non vengono sostituiti e le cause vengono rimandate di anni come già sottolineato dagli avvocati all'ospedale mancano i medici poche le domande non piace il contratto a termine da osservare parametri regionali insomma questo è lo spaccato non molto positivo evidentemente che c'è ad Avezzano dove vedete i due pilastri giustizia e sanità evidentemente sono in difficoltà a Carsoli una baby gang aggredisce un anziano ottantenne poi questa notizia l'associazione Pedalando che dice la pineta del Salviano l'abbiamo pulita noi torniamo sulle questioni del morrone perché le associazioni al parco ci vuole un presidente qualificato a Sulmona la Marelli la FIOM i lavoratori devono essere uniti e poi una storia che riguarda due bambini i figli mendicavano i genitori sono stati rinviati a giudizio per averli utilizzati proprio per fare l'elemosina a Chieti uccise di Marco vicino al circolo 30 anni di carcere a Cipressi omicidio allo scalo ieri processo e decisione emessa dal giudice all'ieri accolte tutte le aggravanti da Ergastolo la pena e la ricostruzione del PM Ciani la difesa fu un omicidio preterintenzionale molti testimoni non hanno avuto alcun senso civico e poi altra notizia sono dei Casamonica arrestato un latitante questo è l'auto utilizzata ovviamente per non farsi trovare per darsi alla fuga smartphone e card la rivoluzione dei servizi sociali si parla di Chieti solidale ad Ortona ecco la nuova clinica dermatologica inaugurazione al Bernabeo con l'assessore regionale Paolucci siamo riusciti a salvare l'ospedale a investire con decisione il primario abbiamo dotazione tecnologica e professionalità per assicurare prestazioni di primo livello e aggiungere ulteriore qualità a vasto nuova sala emodinamica la regione 15.000 firme a Lanciano inseguiladri e viene trascinata dall'auto andiamo a Teramo schianto muore barman di 26 anni a vittima è Christopher Micolucci del Mykonos Cafè di Castelnuovo Mano era soprannominato il Panda la guida della sua Panda è finito sotto un tir nella notte ancora da accertare le cause del sinistro ed è finito quello che si sa che è finito sull'altra corsia violento urto contro un camion si è verificato sulla rotonda della statale 150 in direzione Roseto per la politica di Sabatino a futuro in farmacia stop alla vendita cambiamo pagina adesso andiamo a Giulianova via libera ai lavori sul corso del Lido un'altra opera attesa da sempre prevede l'apertura del cantiere nella giornata di domani e si procederà per tratti sarà rifatta la pavimentazione dei marciapiedi posizionati elementi di arredo urbano nella pineta del Cursal Tortoreto chiude il supermercato nel vecchio incasato e poi ad Albadriatica non gli danno da bere spara dei colpi di pistola la morte di D'Antonio è spiantata gli organi il 53enne agente di commercio Giuliese che era precipitato dal terzo piano dell'edificio dove si trovava il suo studio prima di andare alle pagine dello sport leggiamo rapidamente anche la cronaca della provincia di Teramo dal quotidiano la città indagato anche un professore dell'università di Teramo per i concorsi universitari 7 baroni in manette 22 interdetti dalla docenza e altri 30 iscritti nel registro degli indagati a Teramo via al processo per truffa sulle azioni Tercas 28 sotto accusa popolare di Bari parte civile tra i testimoni anche l'ex commissario Riccardo Sora Teramo e L'Aquila fusione delle due camere di commercio Lanciotti chiede verifiche sulla sede questioni che riguardano l'Enel che stende cavi antigelo tra Teramo e Campi da oggi lavori di potenziamento per evitare blackout i blackout che ricorderete dell'emergenza maltempo e saranno possibili evidentemente anche alcuni disagi per le strade ricorrere al Tarra sarebbe un fallimento in provincia di Teramo accoglienza freddina per la proposta di Tommaso Ginobili sono due anni che combattiamo con Anas e Regione nella foto Renzo Di Sabatino presidente della provincia di Teramo con Sandro Mariani questioni del comune di Teramo salta il piano di smissioni delle partecipate il sindaco non ha la maggioranza per vendere la farmacia comunale e le quote del COPE e dunque tutto è stato rinviato sangue sulla 150 barista muore schiantandosi contro un tir Cristopher Micolucci 26 anni di Castelnuovo ha invaso la corsia opposta a causa di un colpo di sonno i funerali leggiamo l'ultimo saluto a Micolucci questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Castelnuovo Vomano in Val Vibrata Alba Adriatica spara 4 colpi per un drink negato attimi di paura di fronte al bar dell'hotel Atlante proprio di Alba Adriatica e poi a Tortoreto obbligo di dimora per il carabiniere indagato per favoreggiamento questo è un dopo mesi di indagini arrivano le prime misure cautelari e ad Alba Adriatica dalla sala d'aspetto della stazione spariscono anche le storiche panchine praticamente completamente spoglia andiamo a Giulianova perché è morto come avete visto l'imprenditore caduto dal balcone Domenico D'Antonio non ce l'ha fatta la famiglia ha donato gli organi il 53enne Giuliese era ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal balcone a Roseto di Girolamo più digitale meno burocrazia basta carta e servizi su internet Sindaco chiede ai dirigenti di semplificare la vita di imprenditori e cittadini e poi a Morrodoro danneggiata l'auto dell'arbitro barese del derby tra San Nicolò e Pineto risolto proprio da un calcio di rigore al novantesimo finito a 4 a 3 per la squadra di Campanile adesso andiamo allo sport partiamo con il Pescara in 6 partite mai lo stesso Pescara schierati 21 giocatori Pigliacelli Coda e Mazzotta sono gli staccanovisti e il titolo è ovviamente Zeman cambia sempre ed è strano per un allenatore come Zdenek Zeman e qui vedete la tabella riassuntiva per due giovani cresciuti proprio a Pescara Pompetti e Peschetola in evidenza all'Inter i due baby biancazzurri ceduti in estate brillano con la Beretti e con l'under 15 della formazione nera azzurra andiamo in serie C in casa Teramo con Campitelli il patron biancorosso che benedice il 3-5-2 così il Teramo gioca meglio e bacchetta l'ex Sanzovini il patron dopo il cambio di modulo la squadra è diventata più compatta la punta della Fermana mi ha deluso non ha pensato dice agli interessi del club domenica dunque partita molto delicata tra Teramo e Fermana in basso in eccellenza Bartolini spinge in alto il Giulianova Torti Paterno guai a rilassarsi Cattenari Orta duello tra amici in Chietipenne c'è anche la top 11 del campionato di eccellenza in serie D all'Aquila c'è da pagare ma nessuno si fa vivo silenzio preoccupante da parte dei possibili nuovi soci il closing è un'incognita a Pineto e ad Avezzano allenatori in discussione invece a Francavilla torna la fiducia anche qui c'è la top 11 della serie D e poi Fontanelle il capolavoro di un grande ex giocatore come Mino Bizzarri promozione a tre anni a punteggio pieno domani con Luco nel turno infrasettimanale cambiamo quotidiano adesso andiamo sul messaggero Castori ex tecnico del Carpi peraltro prossimo avversario del Pescara che fa i complimenti al Pescara quanto mi piaci bene non solo l'attacco il centrocampo è super Coulibaly è un potenziale fenomeno ma non fate paragoni con l'ultima promozione in quella squadra c'erano fuoriclasse di livello mondiale e poi per il notiziario campagnario in gruppo Palazzi invece resta in dubbio c'è l'intervista proprio a Castori con il Carpi che perde il difensore Mbaglié in basso per il Volley la Sieco riflette sulle occasioni sprecate molti aspetti sui quali lavorare dall'approccio soft del primo set alla rimonta subita nel terzo parziale ovviamente Volley di A2 andiamo in Serie C a Teramo Teramo è il momento di trovare l'equilibrio all'orizzonte due gare consecutive in casa per migliorare la classifica Asta deve decidere se confermare il tridente o scegliere la difesa a tre il Pineto in Serie D invece conferma Amaolo ma con la Vis sarà un esame San Nicolò tutt'altro tenore due vittorie e la classifica sorride altre squadre di D Nero Stellati i progressi non sono ancora sufficienti a Francavilla Iervese dice Francavilla questa è la risposta che volevo vittoria ad Agnone contro una squadra non molto facile anzi per nulla facile da battere all'Aquila la svolta non arriva l'Aquila crisi al buio vertice segreto tra vecchi e nuovi proprietari se non si troverà una soluzione rapida il futuro della società è fortemente a rischio leggiamo il gruppo Chiodi non ha coperto i debiti pregressi e quello di Fioravanti si tutela non pagando gli stipendi insomma una situazione davvero molto complicata Abbasto Colavitto Vastese devi migliorare in zona gol Lavezzano invece conferma la fiducia a Giampalo ma ora deve vincere decisiva per il tecnico sarà la sfida contro il Nero Stellati Pratola Fanalino di Coda andiamo a vedere lo sport sul quotidiano la città perché c'è la questione Teramo perché Pordenone è diversa da Vicenza contro i Biancorossi si era visto un Teramo capace di reggere a rispondere e rispondere ma al Bottecchia si è rivisto l'encefalogramma piatto della scorsa stagione in serie D la vittoria del San Nicolò mette nei guai a Mau la panchina del Pineto traballa e domenica c'è la Vispesaro se salta il tecnico Montani o Mecomonaco e poi c'è l'analisi dell'eccellenza urlo strozzato in gola il Real Giulianova sbatte sui legni dell'angolana e finisce 0 a 0 con questa notizia noi chiudiamo la rassegna stampa per questa mattina ovviamente vi do l'appuntamento alle ore 14 con la prima edizione del TG6 mattino 6 invece torna domani mattina puntuale alle ore 8 è tutto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti